In questa video guida, vedremo alcuni consigli, per scegliere i migliori cofanetti regalo. Donare un cofanetto regalo è un'idea creativa e originale per consentire a chi lo riceve di fare nuove esperienze. Se ne trovano in un range di prezzi davvero ampio, in modo da adeguarsi a qualunque budget e offrire comunque opzioni molto valide. Ci sono varie tipologie di cofanetti regalo, le quali in genere sono divise per temi. Alcuni permettono di viaggiare, altri di provare ristoranti o tour di degustazione, ma ci sono anche quelli per attività sportive avventurose o per ricevere trattamenti di benessere in un SPA. In certi casi si trovano anche le varianti multiattività che danno una scelta molto più ampia. La durata delle esperienze può variare da una sola giornata a diverse settimane. In genere chi riceve i cofanetti regalo ha da 1 a 3 anni di tempo per sfruttarli.